Le giornate europee del patrimonio tornano anche quest'anno in Sicilia con eventi speciali che permetteranno di visitare i luoghi più suggestivi dell'isola ad un costo simbolico di un euro. Partendo dalla provincia di Trapani, il Parco archeologico di Selinunte sarà protagonista con visite serali sabato 28 settembre alle 20 e 30 alle 21 e 30, mentre domenica mattina si potranno esplorare i reperti del Museo del Parco. A Segesta sabato sera sarà possibile ammirare il Tempio Dorico sotto le stelle e domenica mattina partecipare a un archeo trekking per scoprire le ultime novità sugli scavi della zona. Passando a Palermo, il Museo d'Arte Moderna Riso offrirà visite guidate serali e laboratori creativi con un focus sul tema del viaggio. Il Museo archeologico Selinas invece aprirà sabato sera con una visita dedicata agli antichi reperti mediterranei, mentre domenica ospiterà un laboratorio per bambini. Altri luoghi come la Casina Cinese e il Chiostro di Monreale resteranno aperti per l'occasione con eventi speciali sia di giorno che di notte. Ad Agrigento il Museo archeologico Pietro Griffo proporrà sabato sera due visite tematiche sulle antiche strade di Acargas e domenica una passeggiata guidata tra il Tempio Romano e l'Agrumeto secolare. Un'occasione imperdibile per scoprire i tesori nascosti della Sicilia immergendosi nella sua storia e bellezza.